Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua da Flisi e le mie estruazioni di pala sul microfono Oggi come vedete siamo guerrieri di Roma con un'arma potentissima Sì perché ragazzi sono livello 139 di forza o 50 Stiamo utilizzando il martello pesante del demon e più 2 Che sarebbe quello che vi droppano i corvi se gli date lo dati petrificato Che prendete dalle vecchie come dono senza aver preso la pietra liscia e sessuta piccola prima delle vecchie È un casino ma spero che abbiate capito E se perché sono salito così tanto di livello Tranquilli non sono un tizio che livella da soli Tranquilli fate poche domande Esatto non sono un tizio che passa le ore a livellare come in Abbi Ma semplicemente avevo già registrato questa zona Sì ragazzi l'avevo già registrato Intanto once lottiamo il casca palle Avevo già registrata solo che C'era stato solo un problema Ok ma sta zitto Sì dopo arrivo No mi viene ad evocare stai zitto te Devo parlare con i tizi stai zitto te se no ti cazzo Non me ne frega gente Posso parlare deficiente Le abbiamo già affrontati Tutta la zona Cioè il primo boss è la prima zona della zona di Dranglick Solo che Fraps non ha registrato Infatti vedi il tizio della barca non c'è qua E non ha registrato E quindi sapete cosa ho fatto? Abbiamo cercato per un'ora intera un follow ascetico Perché non ce l'avevo Un'ora a passare a cercare un follow ascetico In chiamata Neanche con i messaggi di steam Perché c'era il mio wifi che faceva letteralmente cagare Infatti guardate era già aperto E l'abbiamo trovato Abbiamo reso sia il boss Sia quello dello specchio che quello prima In NG+, questo vuol dire Che dovremmo riaffrontarli Quello dello specchio non ne siamo sicuri No no anche quello dello specchio Perché l'ho dovuto uccidere per utilizzare il follow ascetico Prima dei boss, dei cavalieri Quindi dovremmo affrontare sia il boss dello specchio Che quei cavalieri lì In NG+, questo sarà una vera e propria strage Sclererò più del video di getting over it Che ho intenzione di editare tra poco Sì ragazzi piccolo spoiler Ma muori Non pararti così di one shot o male Deficiente Allora Come vedete siamo veramente potentissimi Rambo ci fa una pippa Proprio di quelle clamorose a due mani Qua C'è il coso di merda Un Rambo No No vabbè Moveset dell'arma che fa letteralmente cagare le palle Peso di cascapalle Qua ci sarebbe la puttanina di Majula Solo che appunto Visto che ho utilizzato il palo ascetico L'aticolatista già parlato E niente Ora curiamoci Con questa fetta di albero Fiore di albero stregato Utilizzando guarigione proprio Di quelle Miracolo base Proprio quella base base Perché mi dimentico di potenziare La fede Oh aspetta Devo evocarti Pala Sto andando Questo è un Dark Souls 2 copro Non è Dark Souls 1 Dark Souls 2 1 Eh però che a scappare Non mi puoi evocare L'abbiamo visto spawnare No ma è quello di Soleil vero? Sì Sì infatti la nabbagine guarda Si riconosce a distanza di chilometri Grazie È evocazione di un fantasma È evocazione di uno scarso al massimo Tantamente scarso Che fantasma sarebbe Un insulto verso i fantasmi Sì dai guardate Senti il pietore già da qua giù Mi ha lasciato qua giù in fondo Non mi neanche aspettato Sì ma tanto a chi ti vuole Scusa Mi hai evocato te E te anche non vai Farmi evocare te Scusa Eh c'era giù Solo che se non ti evoco Non è più Dark Souls 2 copro Peccato vero Oh È vero Vai muori Oh Devastante Sì bravo Tu vai Tu attacca pala Che tante scarse E noi ti uccidiamo da dietro Ti incolliamo male Ok qua la porta è già aperta Ma ragazzi ora vi Passiamo tipo una mini scenetta Siamo qua Dobbiamo a uccidere Sto tizio di merda Vedete Quello che ti lancia Le frecce di merda Che uccidiamo in tre colpi Sempre se lo prendiamo Eh guarda che mira pala Che mira il bersaglio giusto Arrivano qua Oltre a questo tizio Arrivano dei tizi di merda Che continuano a spawnare Finchè non aprite la porta Fa Apre sto tizio Ed entriamo dentro Ok ragazzi Tutta originale questa scena Ora avrete capito Sicuramente tutto Le emozioni sono sempre le stesse Qua Ah si si Sei il tizio a cui già ho parlato prima Per fortuna che vi ho saltato la scena Perché se no Ragazzi 10 minuti di video Solo per parlare con sto tizio Qua ci sono gli scudi Che In Dark Souls 2 Quello craccato Quello che ti scarichi con New Torrent Ti danno già l'inizio E come faccio a saperlo Beh Non fatevi domande Ragazzi Io sono un tipo legale Perché lui l'ha cazzato Lui è un hacker Io sono un tizio legale No Comunque ragazzi E in ogni caso Per giocare online Bisogna comprare Qui c'è il momento Comparativo Quindi vuol dire Che l'ho comprato E quindi ragazzi Anche se io l'avevo craccato Quella volta No ho sbagliato Anzi no scusa Che se ne frega Niente spiegazioni Lasciamo lì nel dubbio Morto Tento Ti immagini se curassi quel tizio Quando sarebbe epica la scena Curi lì Curi lì Cura pochissimo E' una merda questa guarigione Devo potenziarla ad ogni costo Ti sposti Merda Vai Vai No rimane con un punto vita Perché è assieta nel mondo Se no lo one shoterei Qua ci buttiamo da Acab Ok E qua si aprono le porte Facciamo la scena Tananana Ok Zorrambo Blablabla Arriviamo dal falò Perfetto Non possiamo utilizzarlo Perché è un laser Nel nostro mondo Ma il sentinella è bello Uccise E' vero Ah è vero ragazzi Qua Non so Scusate Allora ragazzi Passiamo fare tutta pala Non vogliamo morire Vai Vai pala Vai sentinella Se la puoi fare Sentinella Io credo in te Forza E' lì davanti a te Puoi farcela Vai 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 Un altro colpo Altri due colpi No 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 Pala vai 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 Non scappare comunque dardo Tutti stanno tifando per la sentinella E non vogliamo vincere la scommessa Vai pala Va bene Ok Va bene D'accordo Palle Oh Entra l'osso duro Entra proprio il gladiatore dell'arena Ora tu muori Te lo dico Il gladiatore è arrivato qua Per ucciderti male PAAA Pfff Oh Un sottato Ops No aspetta Ora tu muori No aspetta Ce ne sono due Oh Vabbè il gladiatore non ha paura di nulla Vi fiderà tutti Tanto sono anche vincita dal gladiatore Quindi ragazzi sono pure in tema One shot Pfff Schivato Mi dispiace Il gladiatore è troppo forte per te Vieni qua Vieni qua Vieni qua Merda Scarso Sembra un pale Con questi Con questi massi di merda Lo sai Vieni qua Ops Puh Devastanti Un altro L'avevamo pure sbilanzata E muori No apriate un altro colpo Muori muori PAA Il gladiatore È troppo forte Guarda Guardate Sono proprio vicino il gladiatore Il gladiatore è lo scarso di merda Che scappa Come un codardo Infatti Ci sta tantissimo Sì però Che cazzo Sono in due Vabbè il gladiatore non ha paura di niente Può farcela Può farcela Blade 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 time Scarso time Guardate che sta per morire Scarso time Tutti stanno Fifando nell'arena Tutti sono pronti a vedere Pala Che muore Tutti Tutti proprio eccitati Eccitati a livelli esponenziali E il gladiatore Che ovviamente L'uccide malissimo Fai Uuuu 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 Tutti stanno tifando per la sentinella A poca vita Ma noi crediamo in lei La sentinella Sentinella Forza ce la puoi fare Dietro di te Forza Non mi morire Sei resistente Forza Dai che ti fa poco danno Dai che è scarso Ti fa poco danno Ce la puoi fare No sentinella Non mi deludere Non mi deludere Non mi deludere Vai Grande pala Grande pala Grazie Così che ti aiuti No aspetta Il gladiatore Non andare a dare dal gladiatore Che se no muori E vabbè però Che caos Sentinella Io credevo in te Vabbè almeno Gli hai fatto un po' di danni Gli hai fatto applicare Un po' di cm dell'anima Perciò Per questo Ti diamo comunque La medaglia di Vendicatore di scarsi Ah l'abbiamo uccisi tutte Qua la merda Uccidi tutte L'abbiamo uccise tutte Tu ne hai uccisa una Io ne uccise quattro pala Ne uccise tre Erano quattro Tutale Allora ne ho uccise tre Va bene Ok qua ragazzi C'è tipo un oggetto E solo che Questo acido Occorre un bel equipaggiamento E Io non ci voglio tornare Perché sai Viaggiare Hai detto Dovevi fare anche Allo specchio Andiamo Non voglio Infatti non ci andiamo Perché sai Stare Nella vasca di pala In casa sua Non è che faccia Poi così tanto bene Hai detto Perché vuoi fare anche La cosa dello specchio Facciamo velocemente La zona Per Alla gente Che qua c'è un oggetto Che verrò avvelenato No Non sono stato avvelenato Perfetto No comunque Stavo dicendo Che tipo Quella merda Sarebbe la casa di pala Perché guardate Che lezza Non può non essere Che cosa sua ragazzi Che pala Quanta gente Wow Dubbisottato Arrivo io tranquillo Pala ti salvo Ma Stavo combattendo io Eh lo so Però tu pala Saresti morto Oh Guardate Devastato Però Ok Qua ragazzi Qua ragazzi La gente È in NGPU Perché ha utilizzato Un palo Che adesso vi mostra Ecco Quello laggiù Che sarebbe Un muro invisibile Che tipo Voi l'aprite E Ci ho messo Il palo ascetico Infatti questa gente È in NGPU Quanto cavano qui E le tizi Eh sono in NGPU Palo Io comunque Lì L'ho lasciato lo stesso Roba fantastica Qua ragazzi C'è la puttadina Di Drangleic Eh sì Che non parla Perché abbiamo già parlato Che poi Se tu gli spari Una freccia intera Proprio nel muso Tuff Guardate che non gli arriva Perché l'esa C'è un muro invisibile Ok Ragazzi Ora passiamo al boss Esattamente Dopo anni e anni Entriamo nella nebbia E ti diamo i tizi In NGPU Ragazzi Ricordatevi che Tutti in NGPU Perciò ragazzi È più difficile del normale Tipo come se avessimo finito Il gioco E fossimo tornati qua E i danni Comunque sono sempre ingenti E lo so Sei scarso Ma tranquillo Cioè Con mio consolazione Posso dirti che C'è qualcuno Più scatto di te Se l'hai di fronte Quindi Vatti valere E uccidilo male Tutta l'arena è con te No 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 Tutta la gente Tutta la gente È proprio lì A bocca aperta Il gladiatore sta per morire No il gladiatore sta per morire Il gladiatore sta per morire Ma non morirà Perché Ha lo scudo Come ultima risorsa E le estus Come risorsa primaria Che utilizzeremo ora Grande La gente sta rifando La gente sta rifando La gente vuole la morte di pala Per una volta La gente vuole Peno In questa puntata Vedere qualcosa di bello Perché non si accontenta Di affrontare i boss In ngqs Vuole la morte di pala La morte di pala La cosa che qualunque persona Vorrebbe Perché chi non lo vuole È una persona strana Forza No 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 Tu ti voglio vedere La morte di pala Non la mia morte Ecco bravo Vai dalla persona giusta Tanto certo Io mi guardo un po' L'inventario Aspetta Allora qua Il tizzo non l'ho mai capito Cos'è Aumenta temporaneamente La resistenza al vereno Ma se ne trova solo uno In tutti i gioco No perché Io con ogni personaggio Non ho sempre trovato uno Di sta merda Cioè non è possibile Qua vabbè Ci spiesca Che non utilizza mai nessuno Qua le Vabbè le anime Qua i due Due frammenti Frammati del passato Buono Quelli di cascapalle Verso pala E qua Otto figi male Perché Dai dai Andiamo a dare L'ultimo colpo Così almeno Pala non ci prende Il merito Dell'uccisione Il sonido Esatto Il sonido L'ultimo colpo Se vuoi Puoi vedere dal video L'ho dato io L'ultimo colpo Così pala Ha fatto Ha fatto No è vero Non è vero Non ho fatto la maggior parte Ha fatto metà Perché Ho cavato metà Quello E ho ucciso quell'altro Non è vero Lo ucciso tutti e due Io ho dato l'ultimo colpo a tutti Mi dispi Ma stai detto Che adaltro Ho ucciso Una palla di fuoco Si 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 vedrà nel video Si vedrà nel video Esatto Intanto noi andiamo A maggiù Dalla puttadina A farci qualche livello Chi è che ti chiama Pola Io mamma Sì mamma Quale piacere La vasca Perché Qualcuno Che chiede un piacere a Pala Che non è Un suicidio Ok Sono andato Ciao 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 Pola La prima persona Che ti chiede un favore E il favore Non è un suicidio Da parte tua Cavolo Non lo sarei mai aspettato Neanche da mia mamma No Paolo Eh Ciao Ok Ciao Paolo Ciao Ciao Paolo chi? Il tuo fratello di merda? Il mio fratello Il tuo fratello quanti anni ha già? 9 Non ci credo È il cellulare No È la regione di mia mamma Che mi ha chiamato Con il tuo cellulare di mia mamma Ok ok Che se no avrei detto Che la scarsagina Si tramanda In ogni generazione Della famiglia Palareta No Stai calmo Tranquillo Ok va bene Allora tuo fratello È salvo Comunque Pala No Ma è un coglione È un coglione Esatto Non è uno scarso Tanto piazza il simbolo Stai cantando la tua canzone È vero ragazzi Tutti sono in n di più Ragazzi Tutti Anche queste merdi Infatti ragazzi Mi sa che muoio tanto Mi sa che muoio tanto Mori Ok L'ho lasciato lo stesso Perché sono potentissima Questa a me è potentissima Sì però se ti pari Ehm Faccio la zona da solo Visto che il mio filtro antinub Non mi fa trovare il tuo simbolo Mi fa fatto toglierlo Sì sì Cerco Cerco Io ci credi anche Come ci credi anche L'altra volta In la puntata Pala e scarso Pala e ma quando si scarso Che non ti trovavo Era per quello invece Però alla fine l'ho tolto Mi abbiamo messo due ore intere Cavolo Però ce l'abbiamo fatta Sentite L'ascensore sta scendendo L'antico martello Da cavaliere No non so Non so se fosse quello Ma Guardate pure un'altra fantasma Che apre la cosa con noi Cabana di Katia Amici qua Guardarci Qua ragazzi ci sono altri tizi Quelli giganti Mastodontici E qua ci sono i guerrieri di Alon Quelli potenti no Quelli con l'arco Overpower Ce ne sono tre No fai E' vero che in NG più Ce ne sono Ce ne sono tre Invece che due E' un suicidio E' un suicidio Ragazzi No 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 Io non sono palla Non ho bisogno di suicidarmi Vabbè dai Che palle Me l'ho dimenticato Che ce ne erano sei Invece che quattro Ne hanno NG più Bene Bene Non ci trovano Motta che c'è un suicidio L'esercito 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 Muori Qua troviamo qualcosa No 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 Qua troviamo una trappola di merda No non avvelenarmi Oh Matrix Si vabbè però Ora non abbiamo schivato Peccato Cattura Muori male Perché Perché se lo dico io Muori Vabbè però dai Traverso la parete Del cavo Allora Due per uno Due per uno Peso degli sconti Della Conad Qua Ma Ricordatevi ragazzi I migliori sconti Sono sempre qua Nel canale di Pleasy Pleasy Persone Oltre gli attacchi Che cazzo Stai a dir Eh lo so Non so neanche io No 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 Non voglio morire Non voglio morire Ok Mi chiamano Cioè È la quarta volta Che ti chiamano Digli di star zitti Sì Perchiamaggio Vai Paa Easy proprio Allora ragazzi Ragazzi Lassù ci sono i tizi di merda Di Ciralone Però noi andiamo di qua Perchè c'è l'ultimo frammento Di Faschietta Dessus C'è l'ultimo utile Perchè poi c'è un altro Nella zona dopo Dai tizi canterini Che però Quello è inutile Perchè c'è Non può andare Oltre 12 Faschietta Dessus Quindi quello Cioè inutile come la merda Più utile Pala di quel frammento Ragazzi Pala è scarsissimo E non riesce Ma non è colpa mia È colpa tua È colpa tua Andiamo a scarsezzare E non è di più ci sono sti Mesti robino Muori Ops Andiamo a morire Andiamo a scarsezzare Non andiamo a morire Ma muori Entra dentro Ragissimo Cosa Che cazzo Mi stuprano È normale Pala Non si fa tra abitudine ormai Fuori Torna fuori Torna fuori Torna fuori Muori Che ti vuole a te Torna fuori Invasore oscuro E nei pt di merda Backstep E muori Raccogli pure l'oggetto In modo che ci sei Scudo a torre Inutile Ripassati E ora Andiamo avanti Utilare il demone dello specchio In NdP Con questa arma potentissima Il demone dello specchio Sei sempre Il cavaliere dello specchio Il cavaliere dello specchio Non mi ricordavo come si chiama Sesto negro Muori Che poi intanto negro Non è però È molto bianco Molto grigio Sto grigio Comunque gli facciamo Un casino di danno 787 Gli facciamo Oh madonna Vai vai Basta girare gli intorno In questo modo Vabbè se non gli prendi lo specchio Sei a posto Cioè Siamo talmente forti Che lo stiamo Che lo stiamo uccidendo Che allora Vediamo No non è lo specchio Merda No È evocare il tizio dallo specchio Colpisce l'ora Colpisce l'ora Che è volumilabile Allora Ma no Ma che pale Ma stavo rotolando Avevamo uno sputo di vita Stavo dicendo Comunque l'ho portato Tipo un punto vita Senza nemmeno Senza nemmeno Fargli evocare Il tizio di merda Ok Siamo tornati qua Merda Comunque ragazzi Ma ti era normale Comunque Ragazzi Mi dispiace Lo so Anch'io volevo vedere Scarsa Cioè Palo Scarsa e palo Ho detto Che palle E Pala Morire da scarso Assurdo Però Non posso fare altrimenti Cioè È troppo scarsa E non riesco a trovarlo Comunque Per la prossima volta Ci attrezzeremo meglio Cioè Almeno Proverò a vedere Se ci furiamo comunque Sì però Non voglio morire Che sto parlando E mi sto disconcentrando Perciò Bevi No Evoca il tizio di merda Palle Oh Beh noi siamo qua pronti Ad uccidolo male No Abbiamo Lo possiamo bisottare però Almeno quello L'abbiamo bisottato Ok Bevi subito Ok ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ma basta Con un stacco D'alezzo Vai Un altro colpo Del cavolo Fortissimo Vai Ultimo colpo E muori Male Superato malissimo Guardate come l'ho Stuprato ragazzi E quindi Vediamo quanti anime Ti dai NG più 68.000 Grande ragazzi Fortissimi Fino alla fine 100.000 Animi ragazzi Fortissimi Ok Ci diamo Forza Sbrigati Io comunque spero Tantissimo che abbia registrato Sta merda Di fraps Sennò dobbiamo Affrontare Sennò dobbiamo Affrontare In NG più 2 Oh Cos'ho fatto Venite Sotto Forza E ci lo vanno Arriva Oggi Pala È più scarto Del solito Ragazzi No Tutti che lo chiamano Poi arriva Su Babbo Pure a rompere Le pale Vabbè Comunque Andiamo a tre In via Subito Da questa Zona Del cavolo Perché Questa zona È veramente Brutta Bruttissima Questa zona Veramente È uno sclero Dopo l'altro Perché Sono le tizie Di merda Che cantano Che poi Che poi Ti lanciano Incantesmi Da lontano Allora Vediamo qua 3 Va bene Allora Porta Fede a 18 Poi Vabbè La porta Non ce n'è bisogno Aumenta di pochissimo Cavolo Vigilità E Non mi serve È la tempra Quella che mi serve Guarigione medica Perfetto In questo modo Possiamo curarci Con un miracolo Che meno si cura Di più Almeno metà vita Ce la da O quasi Non Sto miracolo Del cavolo Che è come Non avercelo Ok ragazzi Pala È scarso È andato A mangiare Dopo essere stato Richiamato Da suo padre Noi invece Siamo qui Da non morti Tutti fieri Con questa Una potentissima E Abbiamo fatto I due boss In NG Più Quindi Penso sia Comunque Vi possa Accontentare Vi possa coprire Il danno Che ha avuto Pala Nel non essere evocata Nell'ultima boss fight Quindi Perciò Ragazzi Lasciate like Iscrivetevi al canale Per rimanere sempre aggiornati Condividete il video Ma mi raccomando Ragazzi Lasciate like Perché Veramente È stato un casino È la seconda volta Che ho fatto Questa zona E forse Andrò fare una terza volta Se non ho registrato Cosa che spero L'abbia fatto Perché se no Ragazzi Lo stupro male Quel Fraps del cavolo Quindi ragazzi Da prese è tutto E da pala Che è mangiare è tutto Ciao ragazzi Ciao ragazzi